Gentili telespettatori, buona giornata. La fidanzata di Matteo Salvini risponde alla Lucarelli e a quella figuraccia che ha fatto dicendo ma perché Salvini e Meloni e la fidanzata di Salvini sono andati al funerale di Michele Merlo, hanno fatto la solita passerella e poi si scopre che Salvini, la fidanzata e la Meloni sono stati invitati proprio dal padre di Michele Merlo perché sono amici stretti e così Francesca Verdini risponde e dice una passerella, vergognati, certo che quella Lucarelli assieme a quello Scanzi, Travaglio, certo che in quel fatto quotidiano c'è una bella assortimento di persone proprio così gioviali, allegre, positive, ricordiamo Scanzi, quello che ha saltato la fila per vaccinarsi, ve lo ricordate? E questa Lucarelli, che brutta figura, praticamente ha detto Salvini, Meloni e la fidanzata di Salvini vanno lì a far la passerella per farsi vedere, prendere dei voti senza neanche sapere le cose, mamma mia che figura che ha fatto. Beh, la Lucarelli diceva, la presenza di Salvini e la Meloni al funerale di un ragazzo di amici morto per una leucemia fulminante perché? Erano parenti, amici e un funerale in cui la presenza della politica dovrebbe significare qualcosa? No, solo passerella, con tanto di cartoline da pubblicare sui social. Che pena, scriveva selvaggia Lucarelli. Francesca Verdini ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram, dice ho imparato da piccola che la stupidità va ignorata, altrimenti fa male, ma a volte anche se provi ad ignorarla, fa male lo stesso, ha premesso la compagna di Salvini, spiegando che è stata indecisa fino all'ultimo se pubblicare o meno il post. Per la prima volta in vita mia sento il bisogno di rispondere. Rispondo alla signora Lucarelli, giornalista meschina, violenta, inacidita da una vita che evidentemente non va come avrebbe sperato. Giornalista vuota e arrabbiata. E dice, le rispondo per rispetto dell'ingiusta guerra che devono combattere due meravigliosi genitori. Rispondo per rispetto di Michele. Rispondo anche nel rispetto dei miei sentimenti e dalla persona che sono. Un ragazzo di 28 anni non c'è più, un amico, un figlio, un compagno di viaggio meraviglioso, e lei è così meschina da aspettare con la bava alla bocca la prima occasione per dire qualcosa, riducendo questa assenza incolmabile in due righe di acidità. Ma è possibile che nessuno le abbia mai detto che qualche volta è meglio stare zitti? Sono allibita e arrabbiata. Dice, non starò a giustificarmi con lei per qualcosa che sto vivendo, perché lei non si merita un secondo in più della mia giornata. Ma la invito a vergognarsi, si vergogni, perché andare in giro a giudicare in modo meschino e triste, come solita fare, deve avere un limite e toccare con questa superficialità, con questo livore e con questa ignoranza una giornata come quella di ieri, lo supera di parecchio. E poi aggiunge, si vergogni e chieda scusa a chi legge ai giornalisti per bene, per essersi permessa di parlare in un momento così difficile, solo perché non è in grado di sospettare che le persone si vogliono bene e si supportino a vicenda. Dice, l'unica che conosceva il ragazzo, mi dicono, era Francesca Verdini, scrive poi la Lucarelli. A maggior ragione la politica non c'entrava nulla. E anche lì non sa che Giorgia Meloni e Salvini sono stati invitati personalmente dal padre del ragazzo perché li conosce. Il post di Francesca Verdini è magistrale, non potrebbe aver espresso meglio quello che tutti voi pensate. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.